Sono Catelli Roberto e sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione della CFTSPA, azienda che si occupa principalmente della costruzione di impianti per la trasformazione nell'industria alimentare. Finito il liceo scientifico, quindi presa la maturità, mi sono iscritto all'Università di Parma e ho frequentato il corso di Ingegneria Meccanica. Ho incominciato come disegnatore meccanico, mi sono occupato per tantissimi anni di ricerca e sviluppo per fare poi finire con il diventare il Presidente del Consiglio di Amministrazione una decina di anni fa. Il mio sogno era quello di diventare un naturalista, un biologo, un qualcosa di questo genere. Ho fatto tantissimi sport, quello che forse mi ha toccato di più, mi ha insegnato di più è stato il rugby e questa è stata la mia passione sportiva. Quando posso faccio bellissimi giri in moto, sia con moto da strada che in moto da fuoristrada. Il mio primo giorno di lavoro me lo ricordo come una giornata terrorizzante, perché quando entri in azienda e devi incominciare a dare quello che sai, ti rendi conto che non sai niente. Mi piace la pluralità di argomenti, quindi il fatto di poter spaziare in maniera totale dall'argomento tecnico all'argomento commerciale all'argomento finanziario. Questo è sicuramente accattivante. In azienda oggi è molto difficile avere un buon rapporto con le persone, riuscire a far capire alle persone che devono lavorare in team. Abbiamo sempre speso tantissime risorse in ricerca e sviluppo, abbiamo sempre cercato di innovare il prodotto perché solamente così e ancora di più oggi si riesce a rimanere sul mercato in maniera competitiva. Il ruolo dei giovani in azienda è un ruolo determinante. Noi dobbiamo allevare, se si può dire, giovani per poter avere un ricambio generazionale. Il giovane è un investimento che bisogna fare sempre, tutti gli anni. La prima è la passione, la passione in quello che fanno. Il secondo aspetto importante è che devono avere tanta curiosità e poi, senz'altro, determinazione. non limitarsi a vedere in casa propria. Bisogna assolutamente girare il mondo, vedere altre culture, vedere altri paesi.